Il suo numero di gara è il 33 e curva dopo curva si è già messo in luce sui circuiti più importanti d'Italia. Il pilota in questione è Flavio Ferroni di Alba Adriatica. È salito in moto a quattro anni e mezzo. Ora ne ha 21 e il 17 e 18 aprile prossimi debutterà al Mugello nel campionato italiano di superbike con la sua Aprilia 1100 del team Veneto Nuova M2. Lo abbiamo incontrato prima degli ultimi test. Come si articola l'intero campionato? Il campionato sono sei round e ogni round facciamo una gara il sabato e una la domenica. In tutti i circuiti italiani che sono Mugello, Misano, Imola e Vallelunga. Quindi terminerete quando Flavio? Termineremo ad ottobre a Vallelunga. Obiettivi? Sicuramente stare davanti e giocarsi tutte le gare. Poi prendiamo gara per gara e vediamo quello che succede. Puoi spiegare in breve Superbike che tipo di mezzo hai a disposizione? Sono delle moto derivate alla serie che chiaramente poi vengono modificate nei loro componenti per renderle più racing diciamo. Poi c'è tanto lavoro dietro di elettronica e con i tecnici e c'è tutto un lavoro molto dettagliato. Le tue aspirazioni, guardando un momentino magari nei prossimi anni, nelle prossime stagioni, quali sono queste aspirazioni? Sicuramente il sogno è quello del mondiale. Mondiale Superbike? Sì, il mio obiettivo sarebbe quello, fare il passaggio nel mondiale Superbike, però chiaramente bisogna meritarselo, andare forte e poi speriamo che l'occasione arrivi il prima possibile. E tra i tuoi sogni c'è anche quello di andare nella MotoGP? Chiaramente quello è il sogno più grande. C'è un pilota a cui ti ispiri? Da quando sono piccolo sicuramente come tanti l'idolo è Valentino Rossi, però con il tempo ho apprezzato anche tanti altri piloti, soprattutto tipo Dovizioso. E' un pilota a cui adesso si è fermato, quest'anno non corre, però è sicuramente un bel esempio. Tutto quello che stai facendo fino adesso, che farai anche nelle prossime stagioni, c'è qualcuno che vuoi ringraziare? Sicuramente la mia famiglia, mio padre, perché senza di loro chiaramente non sarei arrivato neanche a questo punto. Quindi sicuramente loro sono quelli che mi sono stati sempre vicino e mi hanno aiutato.